Ciao, sono Gina Marante e studio recitazione da un bel po' di anni, 10 anni, ho fatto tantissimi workshop, ho lavorato su molti set, tra cui l'ultimo, quello di Gomorra, la serie 3, sono la new entry femminile di nome Maria, un personaggio fighissimo che sta andando in onda in queste settimane, il venerdì sera su Sky Atlantic, quindi non ve lo perdete e sono contentissima di essere qui stasera a questo festival, che è un festival che credo dia veramente tantissime tantissime opportunità ai giovani e a noi servono queste opportunità perché il mondo non ce ne dà tante, questo mestiere è molto molto difficile e quindi ringrazio di essere stata invitata, un bacio! Grazie a te! Grazie a te!